Il Castello di Bibione prende vita nel bel mezzo della campagna toscana ed è una location incantata, risalente addirittura al 997 d.C., dove potrete organizzare la cerimonia nuziale dei vostri sogni. La sua storia ultracentenaria si respira fin dal primo istante in cui si arriva e saprà sorprendere ogni vostro invitato. Il Castello di Bibione, dal 1913, è sotto la tutela della Soprintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici di Firenze e Pistoia. Completamente restaurato nel 1985, presenta spazi interni eleganti e confortevoli, dove avrete la possibilità di vivere attimi indimenticabili a fianco delle persone a voi più care. Nelle giornate più calorose potrete approfittare della sua ampia corte, ideale per allestire eleganti cene, e della sua terrazza, dove potrete organizzare un aperitivo dal retrogusto vintage e raffinato. Agli sposi che lo desiderano, inoltre, viene data la possibilità di scambiarsi in loco le promesse d'amore, all'interno della chiesa di Santa Maria a Bibione o negli incantevoli spazi aperti della struttura. Di proprietà della famiglia Rangoni-Macchiavelli, il castello è gestito con professionalità, competenza e cordialità. Tutto ciò verrà messo al vostro servizio al fine di regalarvi un soggiorno spensierato e perfettamente preparato in ogni minimo dettaglio. Anche dal punto di vista gastronomico potrete star certi di godere di un banchetto dai sapori unici, grazie a un menù personalizzato che saprà soddisfare le esigenze di ogni commensale. Il castello di Bibione offre anche un agriturismo con eleganti stanze, piscina e centro benessere, presso il quale potrete fermarvi per più di una notte e godervi così un soggiorno da favola.